buongiorno amici di well tv da silvia alonso e benvenuti a una nuova puntata del calenda libro ovvero lo zodiaco dei libri per ragazzi questa puntata sarà uno spin off uno spin off del segno del cancro abbiamo parlato della sensibilità che è la caratteristica maggiore di questo segno e l'abbiamo abbinata a dei temi importanti esistenziali in particolare al tema della morte che rompe nella vita perché vita e morte sono necessariamente legate come spiegare ai nostri ragazzi la malattia e la morte l'ho fatto nella puntata di well tv con mia mamma in america ha conosciuto buffalo bill ho fatto poi uno spin off dedicato al piccolo principe ma oggi voglio parlarvi di un best seller che non potete perdervi alzando un pochino l'asticella perché parleremo di un romanzo per ragazzi di 13 14 anni cosiddetto romanzo di formazione sto parlando di bianca come il latte rossa come il sangue di alessandro d'avenia un libro un capolavoro che non potete perdervi vi entra direttamente nel sangue vi strappa il cuore per la dolcezza e per le perle di saggezza da cui ogni frase è permeata la storia e la trama innanzitutto il titolo prende spunto da una novella di italo calvino in fiabe italiane che io vi invito a leggere è la leggenda delle tre dei tre melograni il figlio di un principe un giorno si punge un dito e il sangue una goccia di sangue cade sulla ricotta da questo contrasto del bianco della ricotta del rosso del sangue nasce il desiderio del figlio del principe di conoscere una fanciulla magica che abbia la pelle bianca e capelli rosso sangue si metterà alla ricerca di questa fanciulla e è una favola veramente bella perché è narrata in rima ha la struttura ciclica la la fanciulla nasce nascerà dal melograno poi ci sarà un una rivale la saracina che prenderà il suo posto l'ammazzerà lei si trasformerà in una colomba poi dal sangue della colomba nascerà di nuovo il melograno e finalmente riuscirà a ricongiungersi al principe e è molto importante questo spunto perché tutto il romanzo di alessandro d'avenia è fondato sul contrasto del bianco e del rosso a differenza di quello che potremmo pensare il bianco la luce la luminosità il bianco di questo romanzo assomiglia di più al grigio è la vita piatta è la vita senza colore è in particolare il silenzio ma in particolare è la malattia che rompe mentre il rosso sono i capelli di beatrice il rosso è la vita il rosso è il rosso sangue vivo un giorno alla fermata del tram il protagonista leo che frequenta il liceo classico ha un carattere particolare molto sensibile ma finge di essere cinico è svogliato perché a scuola i professori sono un po un po finti forse e studiare non è di certo il suo forte anche se è un ragazzo molto intelligente ma la sua grande passione è il calcio un giorno alla fermata del tram vede il suo grande amore una compagna di liceo che però non è nella sua sezione che si chiama beatrice inizia questo paragone con la beatrice dantesca non a caso beatrice una figura simbolica che conduce in un cammino di scoperta di conoscenza in un cammino di luce che rimane però nell'ambito dell'idilliaco e dell'ideale questa storia d'amore non sarà mai una storia realmente vissuta leo confiderà il suo grande amore alla sua migliore amica silvia che si farà anche un po da tramite tra i due un giorno però leo vedrà che alla fermata del bus beatrice non si presenta è convinto che sia a causa di una semplice influenza ma così non sarà scoprirà che la ragazza di cui è innamorato purtroppo è affetta da una malattia ed è da una malattia purtroppo terminale nel suo caso perché non si riuscirà a combattere è la leucemia la leucemia ecco che ritorna il tema bianco contro e rosso leucos sono i globuli bianchi che prevalgono contro i globuli rossi nel sangue di beatrice leo cercherà nell'anonimato perché non ha mai parlato a beatrice suo amore rimane ideale e rimane inespresso si arriverà addirittura a donarle il sangue questo lo farà questo grazie a una figura molto importante che rompe nella sua vita soprattutto scolastica spezzando la routine grigia dei giorni scolastici un professore molto particolare che lui chiamerà il sognatore non a caso un professore di filosofia che lo inviterà ad andare oltre le apparenze lo inviterà a spezzare questo guscio di cinismo in cui lui si protegge e gli insegnerà che le persone si qualificano non tanto per le parole che dicono quanto per le proprie azioni il sognatore è una figura veramente all'attimo fuggente è il professore di cui noi tutti i ragazzi ci innamoreremmo che vorremmo avere ma che esiste anche io ho avuto dei professori veramente in gamba quindi un grazie rivolto a tutti coloro che si occupano di formazione e che ci credono che fanno sacrifici e che mettono a disposizione il loro sapere per i nostri ragazzi detto questo è veramente una figura positiva che aiuta a tirare fuori il meglio di sé Leo e quindi lo lo aiuta in questa storia d'amore assolutamente travagliata e Leo donerà il sangue a Beatrice così facendo la conoscerà andrà a trovarla per leggere il leggeranno insieme libri diari appunti l'aiuterà nei compiti senza però dire come andrà a finire ci sarà il dramma ci sarà il dramma inevitabile il dramma che poi arriverà anche a un lieto fine perché Leo capirà esattamente che ci sono due tipi di amore ci sono gli amori ideali come quelli dello stil novo che ci aiutano a fare un percorso di luce passando anche attraverso la sofferenza e poi ci sono gli amori caldi avvoggenti di tutti i giorni con persone di cui veramente ci possiamo fidare e nei cui occhi ci possiamo specchiare io vi invito a leggere questo capolavoro assoluto che mi ha fatto piangere che mi ha tolto il cuore e di cui soprattutto ogni frase è una perla di amore e di saggezza sono frasi liriche sono frasi che sono delle delle poesie sono frasi che non possiamo fare a meno di annotare sul nostro diario alessandro d'avenia bianca come latte rossa come il sangue grazie per il vostro ascolto io vi invito anche alla prossima puntata del calendario libro lo zodiaco dei libri se vi è piaciuta questa puntata mettete un like potete iscrivervi al mio canale di youtube silvia alonso writer soprattutto potrete darmi l'amicizia sui social silvia alonso e visitate il mio sito www silvia alonso writer punto com grazie a voi da silvia